Ciao a tutti e bentornati in Testi La News. Quest'oggi parleremo di un dettaglio che è davvero molto piccolo, ma che può avere immense forme, colori e sfumature, e che potrete quindi tranquillamente mixare tra di loro per dare davvero sfogo alla vostra creatività. Quest'oggi parleremo di perline. Vediamole tutte nel dettaglio. Le perline quindi vi arriveranno così in questa confezione e troverete quindi un mix di perline che come vedremo poi ecco di volta in volta cambierà da colore a colore. Cambieranno le forme che come potete vedere insomma già in questa possono essere cilindriche oppure sferiche, possono essere opache ma anche a specchio. Il materiale può essere in pietra, vetro, nylon e il foro che troverete in ogni perlina può variare da un millimetro fino a 2,5 mm circa. Questa che vediamo ad esempio qui è la variante verde, quindi insomma guardate ci sono davvero tante sfumature diverse di verde, tante perline o pietrine come vogliate chiamarle davvero di ogni forma, dimensione, di diversi giochi, sono davvero insomma ecco tantissime, quindi soffermiamoci qualche secondo in più per ammirarle. Questa che vediamo qui invece è la variante arancio, anche qui come potete vedere cambiano, qui ci sono addirittura sfumate e in alcune il colore rappresentato soprattutto dall'effetto del vetro è così vivo che sembra quasi corallo, davvero molto belle, anche qui soffermiamoci qualche secondo in più. E per chi invece adora ovviamente lo stile un po' più classico c'è anche questa che è la variante bianco-nero, ovviamente troverete perline bianche ma anche vedete tendente proprio al perla, oppure anche nere sempre con varie sfumature e come potete vedere ce ne sono davvero di ogni forma, davvero sia un po' più piatte, sia sferiche, sia schiacciate, ce ne sono davvero tantissime. E passiamo invece adesso al blu, davvero qui ci sono tutte le tonalità del profondo mare, guardate ad esempio queste, la particolarità, sono davvero uniche, pensate ad un accessorio magari da indossare soprattutto d'estate, mixate a questo o anche perché no ad altri colori, renderanno davvero unica la vostra creazione. Questa invece è la variante rossa, dobbiamo dire che è davvero molto ricca, perché? Perché ci sono anche delle pietre, vedete, dallo stile un po' etnico, quindi che vi permetteranno davvero di spaziare a 360 gradi e oltretutto troverete anche all'interno di questa pratica bustina, vedete il classico filo, i classici gancetti ad esempio per realizzare insomma degli orecchini, quindi c'è già il kit perfetto per realizzare qualcosa che magari di solito ecco vedete nei negozi, ma che invece adesso potrete finalmente realizzare esattamente come vorrete voi direttamente a casa vostra. Questa invece è la variante terra, dove ci sono sia delle classiche colorazioni, vedete, tendente al beige, all'oro e sia qualcosa di un po' più particolare come queste varianti sfumate, queste con questo gioco di luce, di pietra che gira proprio attorno alla perlina o ancora qualcosa di un po' più opaco, insomma ecco qui ci avviciniamo un po' a quelle tonalità un po' più classiche ma che ben sappiamo sono intramontabili. Questa invece è la variante turchese, pensate questa meraviglia di sfumatura mixata ad esempio a quella che abbiamo visto prima a blu, sicuramente creerà delle sfumature molto molto particolari e molto belle, poi c'è questo gioco di luce, guardate anche di sfumatura ad esempio in questo che è davvero unica, insomma ecco sono delle perline con il quale davvero creerete dei bijoux che saranno una vera e propria perla rara. davvero molto belle, poi organizzate davvero perfettamente in questa pratica confezione suddivisa in 18 scompartimenti che quindi vi consentirà davvero di tenere a portata di mano tutte le singole perline in tutte le mille varianti di colore che abbiamo visto oggi perché è vero sono sette ma poi all'interno avete visto ogni colorazione ha tantissime sfumature quindi davvero potrete divertirvi a creare bijoux di ogni genere quindi collane orecchini bracciali potrete davvero dare sfogo alla vostra creatività ma potrete anche utilizzarle ad esempio per la tecnica wire che ormai è sempre più diffusa quindi potrete sempre sul sito tessiland acquistare il filo metallico e poi appunto inserire queste pietre e realizzare da spille o qualsiasi altro tipo di accessorio voi vogliate insomma quindi rendete uniche le vostre creazioni riempitele di colore e insomma ecco date sfogo alla vostra fantasia io vi ringrazio come sempre per averci seguito vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale youtube in modo tale da essere e soprattutto di attivare la campanella in modo tale da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli sia quelli già presenti sia i nuovi arrivi sulle idee creative insomma ecco e chi più ne ha più ne metta creatività insomma aiosa io vi ringrazio ancora e ci vediamo al prossimo articolo ciao ciao